Allora, eccoci qua nel nuovo parchimetro, vediamo come funziona. Mettiamo giù 20 centesimi. Oh! Inserire la targa poi confermate. I soldi non vanno messi? Allora, dobbiamo inserire la targa. Noi fortunatamente la macchina l'abbiamo messa vicino e quindi possiamo vederla. Ma se ci fosse qualcuno che l'avesse messa lontano, allora noi inseriamo la targa della nostra macchina. Vado? Se uno l'ha messa lontano, vediamo come funziona. Confermare. Adesso mettiamo i soldi. 20 centesimi. Eh. E si è spento? Perché si è spento? No, no. Allora, rifacciamo tutto. Rimettiamo la targa. Più veloce, facciamola più veloce. Conferma, valido. Mettiamo i soldi. Oh, avevamo messo i soldi. 12 minuti. Valida. Valida. Vediamo. Stampa in corso. Allora, adesso bisogna anche inserire la targa e noi non capiamo il perché. Quindi,